Ci troviamo in via Cagliari, una traversa di Corso Sardegna. Proponiamo questo appartamento in affitto così composto. Allora entriamo e abbiamo questa zona di ingresso che ci accoglie. Il riscaldamento è centralizzato con le termovavoli. Ci troviamo a un settimo piano di 8. L'appartamento è stato appena ristrutturato, da pochissimo. Entriamo nella cucina. Questa è la cucina, come potete vedere, ampia, vivibile, dotata di porta-finestra che dà sul balcone. Quindi andiamo a vedere quello che si può osservare dal balcone. Questa è il Corso Sardegna. Rientriamo. Come si può vedere la cucina è proprio perfetta in tutte le sue parti. Continuiamo. Alla nostra sinistra abbiamo questa bella sala ampia, dotata anche se di porta-finestra che dà sempre sul balcone, come potete vedere. Quindi usciamo dalla sala e ci dirigiamo verso la prima camera singola. I pavimenti sono in graniglia alla genovese, lucidati, e gli infissi sono di penultima generazione con doppi vetri. E questa è la camera. Usciamo dalla camera e ci dirigiamo verso la camera matrimoniale, molto ampia, anche se dotata di finestra che dà sul balcone, che abbiamo visto prima. una camera da letto ampia, grande, come si può ben vedere. Voilà. Quindi usciamo dalla camera matrimoniale e ci dirigiamo verso quest'altra camera, barra studio, potrebbe essere uno studio, camera studio, dotata di questo bello armadio. Una parte della casa dà sulla corte aperta, quindi possiamo vedere, apriamo così vi faccio vedere, si può notare. come si può vedere, una bella, anche di qua si può, è molto luminoso, anche se ci troviamo appunto nella corte. Quindi, usciamo dalla camera singola e ci dirigiamo verso il bagno, che dire, perfetto, in tutte le sue parti, abbiamo il box doccia, calorifero di design, quindi riusciamo e facciamo una veloce riepilogo dell'immobile. Usciamo dal bagno, la camera singola con l'armadio, la camera matrimoniale particolarmente ampia, il disimpegno, la camera singola, una casa molto luminosa, la sala, poi abbiamo la dispensa, dotata appunto di lavatrice e qua finiamo la vista appunto con la cucina. Ci troviamo in via Cagliari, una traversa di Corso Sardegno.